ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi vi parlo di un film tanto rimandato quanto atteso dopo il buon successo di assassino sull'orient express torna Kenneth Branagh a dirigere e a recitare a interpretare quindi il famoso investigatore Hercule Poirot sto parlando di assassino sul nilo uscito proprio qualche giorno fa nelle sale italiane dicevo è stato rimandato molto questo film per vari motivi uno su tutti chiaramente la pandemia con le sale chiuse doveva uscire nel il film è stato girato nel 2019 doveva uscire nel 2020 tra pandemia quindi chiusura lockdown e le sale poi anche a rientro non piene hanno deciso di rimandarlo poi c'è stato anche un problema legato al cast quindi sto parlando di army hammer non voglio farla troppo lunga ci sono stati c'è stato un po di casino mediatico diciamo attorno a questo attore perché ha ricevuto delle accuse anche abbastanza forti di cannibalismo comunque cose abbastanza forti ecco e chiaramente essendo uno degli attori protagonisti non poteva essere non potevano essere tagliate le scene in cui c'era lui e soprattutto siccome il film è stato girato nel 2019 non poteva essere rigirato perché chiaramente sarebbe stato un costo incredibile e anche perché appunto il film era finito ed era già pronto da un po' hanno deciso di rimandare ancora l'uscita per cercare di far passare un po' questa notizia e comunque appunto l'unica soluzione era rimandare ancora e finalmente siamo arrivati all'uscita in sala vera e propria è un film diciamo a differenza di assassino solerente express dove vediamo semplicemente il lato investigativo del detective qui invece c'è una parte molto più tra virgolette sentimentale cioè riusciamo entrare più in contatto con Hercule Poirot riusciamo a conoscerlo meglio entrare in più nella sua testa e sapere anzi nel suo cuore sapere cosa prova effettivamente tanto che proprio l'inizio del film ci parla c'è un bel 5 10 minuti di diciamo di parte prima del titolo dove ci viene narrato il motivo dei suoi baffi cioè ci viene spiegato perché Hercule però porta questo suo baffo molto conosciuto molto simbolico e anche molto curato dove praticamente appunto nella prima parte io ecco faccio già spoiler sapete già però chi fosse capitato nel video per caso faccio già spoiler questo chiaramente soltanto l'inizio quindi niente di particolare però farò spoiler subito non faccio parti non divido le parti no spoiler e spoiler quindi se qualcuno non ha ancora visto il film effettivamente è uscito da pochi giorni magari ritorni dopo averlo visto se comunque chi magari conosce già la storia per aver letto il romanzo sa già di cosa si andrà a parlare quindi magari vuole rimanere però comunque come consiglio è se non avete visto il film non spoileratevelo tramite la mia recensione dicevo nella prima parte iniziale tra l'altro molto bella devo dire in bianco e nero e mi ha ricordato chiaramente 1917 perché è un bellissimo piano sequenza che passa nella trincea c'è quindi c'è questo questa telecamera che continua a andare avanti per la trincea si vedono i soldati pronti alla guerra perché ci troviamo nella prima guerra mondiale ed Hercule Poirot è uno dei dei soldati che sono in guerra troviamo qui il capitano che deve dare l'ordine di attaccare un ponte e diciamo che su un consiglio di Hercule Poirot riescono a ottenere dei vantaggi diciamo così non la faccio non sto qui a farla troppo dettagliata dunque poi alla fine di questo attacco il capitano si congratula con lui e questo capitano ha il baffo molto che è quello che poi in effetti l'investigatore si congratula con lui però inadvertitamente fa scattare il meccanismo di una bomba quindi muore e il nostro investigatore appunto Hercule Poirot cerca di salvarlo cioè diciamo cerca di avvertirlo era comunque vicino a lui e rimane sfregiato sul volto successivamente anche perché appunto lui diciamo il capitano gli dice nonostante tu sia un semplice contadino una cosa del genere sei stato molto astuto e quindi lui ne è riconoscente cioè vuole comunque ricordarsi del capitano e nell'ospedale poi vediamo lui nascosto c'è molto si vede soltanto la parte sinistra del volto arriva la sua fidanzata la sua amata e lui ha teme che lei non lo ama non lo ami più per questo sfregio che ha sul volto lei comunque dice che l'amera lo stesso lui si gira vediamo questa cicatrice questa sfregiatura appunto e lei darà il consiglio ti farai crescere i baffi e appunto siccome lui è riconoscente del suo capitano che lo ha gli ha fatto i complimenti diciamo sul punto di morte tra virgolette per ricordarlo fa proprio gli stessi baffi che aveva il suo capitano quindi comunque c'è questa relazione e da qui appunto scopriamo il perché questo investigatore ha questo baffo simbolico che comunque è riconoscibile e allo stesso tempo scopriamo una parte diciamo della sua vita passata quindi questa relazione con la con la sua amata che anche in assassino sullente express veniva soltanto citata però dopo questa parte iniziale c'è chiaramente il titolo e arriviamo effettivamente in egitto quindi sul nilo ecco una cosa che l'ultimo ponte che faccio con assassino sull'arente express mi ricordo che sul finale quando lui scende dal dal treno gli viene detto che deve andare a investigare sul nilo perché c'è un altro un altro caso un altro un altro lavoro che deve fare sul nilo e lì mi dicevo sapendo che poi appunto ci sarebbe stato cioè o meglio era il modo per dirci che ci sarebbe stato il film assassino sul nilo però mi mi chiedeva allo stesso tempo come fa siccome l'omicidio succederà in corsa come fa già a sapere che ci sarà qualcosa da investigare e poi effettivamente viene scoperto si viene scoperto durante il film perché scopriamo che lui sta investigando su un'altra cosa e poi si ritrova casualmente a dover appunto investigare anche su questo omicidio non solo di una persona poi vedremo che moriranno più persone allora dicevo è un film un po più sentimentale per quello che ho già detto più più intimo più emotivo diciamo da parte per veri nei confronti di del nostro investigatore perché comunque appunto non solo per quello che ho già detto ma comunque ci saranno cose che faranno più entrare in empatia con lui cioè ci vengono dette molte cose della sua personalità del suo modo di essere del suo modo di vivere il film vanta un cast spettacolare non sto qui a elencare tutti gli attori perché comunque sono veramente tanto ecco faccio un salto non c'entra assolutamente niente una cosa che mi sono dimenticato di dire sulla parte iniziale ma che in realtà poi si l'ho notata su tutto il film è l'uso della cgi quindi della computer grafica che riguardo la parte iniziale si vede il volto dell'attore di Hercule Poirot e di Kenneth Branagh non lo so mi è sembrato molto strano forse perché dovevano ringiovanirlo essendo ambientato nella prima guerra mondiale quindi circa 20 anni prima rispetto alla scena effettiva però ho notato che aveva un viso molto strano e allo stesso tempo durante tutto il film sia le ambientazioni quindi le piramidi eccetera ma anche gli animali stessi ci sono alcuni animali che compaiono durante il film devo dire che non sono stati proprio eccellenti con la computer grafica molte volte si notava e non erano proprio bellissimi da vedere diciamo che in generale sul film o mi divido un po anch'io cioè nel senso non so se essere contento se essere dispiaciuto diciamo che c'è qualcosa che non mi convince per carità il film è bello regodibilissimo lo consiglio a tutti però ci sono c'è qualche dettaglio che non lo so mi aspettavo qualcosa di più probabilmente e adesso va bene vado a parlare chiaramente ci sono moltissime cose positive però ci sono anche dei difetti che io ho notato che se secondo me sono dei difetti e quindi che qualcosa che non mi ha convinto al cento per cento una su tutti allora premetto che io non ho letto il romanzo di agatha christie del assassino sul nilo quindi mi baso essenzialmente su quello che sia visto nel film come è giusto che sia nel senso che un film per conoscere un film non si deve conoscere anche per capire un film non si deve conoscere anche il romanzo però comunque basandomi solo sul film devo dire che sinceramente io nei primi cinque dopo il titolo nei primi cinque minuti mi aspettavo già cosa sarebbe successo ovvero c'è questo incontro tra simon l'innette e jacqueline che sono rispettivamente armi hammer che è il vabbè anzi l'innette è interpretato da gal gadot che è diciamo la protagonista del film la ricca e poi c'è jacqueline che è interpretato da emma mckay dove praticamente la ricca quindi l'innette arriva questa serata questo ballo e jacqueline le chiede le parla di questo suo amore appunto simon che è innamorata persa di lui e vogliono sposarsi anzi all'anello di fidanzamento però vuole che vuole che lei lo assuma come responsabile della sua tenuta perché dice che comunque è un uomo povero non ha non ha grandi studi comunque è una persona normalissima però vuole darle vuole darle una possibilità e lei accetta però durante questo vallo tra di loro si vede già che questo simon si vede già che ha delle attrazioni verso l'innette diciamo che questa prima parte l'ho spiegata malissimo ma vabbè questa prima parte già mi era sembrata molto sarà il fatto che appunto guardi un film giallo cioè sai che stai parlando di un giallo e quindi ti fai già mille domande la prima scena cioè sono sicuro che non sono l'unico che l'abbia pensato in quel momento che sembrava molto un imbroglio tra parte da parte di jacqueline verso nei confronti di l'innette tipo del tipo facciamole cedere una parte di proprietà al mio futuro marito così che si possa che possiamo avere anche qualcosa noi e l'avevo pensata così all'inizio e passano sei settimane se non sbaglio si vede che l'innette simone devono sposarsi arriva anche jacqueline sul guastare la festa ma lì io subito ho avuto il presentimento che la storia d'amore tra l'innette simone fosse fittizia ma che era tutto un accordo tra jacqueline e simone appunto per per avere parte della ricchezza di l'innette c'è quindi ho avuto subito questo presentimento sono sicuro di non essere stato l'unico oltre a quelli che sapevano già chiaramente la storia però io dal film ho avuto subito questo presentimento e in più quando si arriva effettivamente al momento del primo del primo sparo quindi di quando jacqueline in preda al panico spara simone lì era palese c'è realtà anche il regista stesso quindi ti va ti sta dicendo che il che non è andato effettivamente così c'è nel senso io dubito effettivamente che qualcuno che qualcuno ci abbia creduto perché va a fare anche un dettaglio di questo fazzoletto sul gli spara sulla gamba viene sparato sulla gamba e lui subito mette questa mano davanti al ginocchio perché dove è sparato e c'è un dettaglio dove è stato sparato e c'è un dettaglio del suo fazzoletto quindi ti sta già dicendo guardaci perché c'è qualcosa che non va e c'è il fatto che fosse già pronto col fazzoletto mi ha ricordato questo è un dettaglio che non so nella mia testa dove va qualche anno fa più di qualche anno fa era successo mi ricordo in che anno comunque vabbè qualcuno si ricorderà che silvio berlusconi era stato colpito da una statuetta del duomo da parte di ora non ricordo il nome di chi e mi ricordo che qualcuno diceva è ma già il fazzoletto davanti alla bocca sapeva già che sarebbe stato colpito era una cosa finta eccetera non so perché la mia testa è andata lì comunque quando ho visto il fazzoletto già pronto sopra alla gamba mi è venuta in mente subito questa scena e gli ho detto che mi faceva perché ha già il fazzoletto davanti ci sapeva già che veniva sparato e diciamo che appunto il fatto che vada a fare il dettaglio sul fazzoletto è già un indizio esplicito perché secondo me non è non voleva soltanto far vedere sperando che qualcuno poteva coglierlo e qualcuno no secondo me era proprio esplicito per dire che effettivamente non era stato sparato in quel momento quindi questo è una parte diciamo secondo me negativa ma non so neanche in realtà fino a che punto perché è una cosa molto interessante se se fosse una cosa voluta che appunto lo spettatore sapesse prima di recupero effettivamente chi avesse fatto cosa c'è in realtà chiaramente ci fa capire che cosa è successo proprio nel dettaglio non sappiamo tutto cioè ce lo spiegherà sul finale e dicevo secondo me può essere una cosa interessante se appunto sia stato voluto che lo spettatore capisse prima del detective che cosa fosse successo e di pari passo vedere come viene a scoprirlo lui poi come dicevo ci sono anche molti altri dettagli che noi non sappiamo e che scopriremo durante le spiegazioni durante gli investigatori del detective quindi comunque ho trovato una diciamo negativa questa cosa se effettivamente uno si aspetta di scoprire tutto solo alla fine cioè viene trascinato dalla parte investigativa però secondo me cioè io non credo di essere un genio dell'investigazione anche perché non è il mio lavoro anche se quando ero più piccolo avrei voluto fare investigatore polizia scientifica comunque roba di investigazione però non credo di essere questo genio che ha capito in anticipo chi era effettivamente l'assassino o che comunque c'era un accordo tra loro due perciò per questo dicevo che probabilmente è una cosa voluta però togli la famosa sorpresa allo spettatore per il finale cosa che comunque ci sarà per altri motivi oltre appunto a scoprire cioè noi sappiamo solo chi è stato almeno chi ha avuto la mia stessa intuizione però non sappiamo come non sappiamo cosa quindi comunque c'è la parte di sorpresa e c'è la parte soprattutto di spiegazione da parte dell'investigatore che comunque è un momento sempre affascinante sono belli tutti gli interrogatori che fa perché ci fanno conoscere le persone ci fanno conoscere tutti i personaggi e ci fanno conoscere anche lui in alcuni momenti e una cosa tra l'altro che mi è piaciuta è dicevo prima c'è stata una seconda investigazione lui era stato chiamato dalla madre di coke perché voleva che investigasse su rosalie che è la fiamma l'amata di coke appunto e voleva appunto sapere qualcosa in più su di lei e quindi scopriamo effettivamente perché lui si è recato sul nilo e c'è questa scena molto bella dove lui effettivamente ha risolto il caso cioè ha raccolto tutte le informazioni che doveva raccogliere su rosalie e le spiega alla madre c'è questa immagine di puerò sulle scale di spalle e da un lato da sinistra c'è cook e la madre e dall'altro lato rosalie e la cugina e questa perfetta simmetria rappresenta effettivamente la personalità di ercule puerò cioè lui è fissato con le cose simmetriche con le cose pari i pasticcini all'inizio devono essere pari le due uova devono essere identiche anche nell'altro film era stato così quindi questa sua questa simmetria che nella sua testa deve essere perfetta e chi rompe la simmetria proprio rosalie che in quel momento si mette dall'altro lato cioè comincia a parlare lei di puro e gli rinfaccia tutte le il suo modo di essere quindi dice che è egocentrico che è ossessivo che vuole sempre avere tutto sotto controllo che vuole dire il suo nome molte volte vuole che la gente dica quanto è bravo puro a investigare quindi gli dice in faccia praticamente tutto e tutte quelle cose che lui effettivamente sa ma che non si aspetta di sentirsi dire in quel momento e quindi c'è questa questa come posso dire un rottura degli schemi perché sia a livello di inquadratura c'è lei che si queste due persone queste quattro persone sono perfettamente simmetriche nel quadro nell'immagine e lei si si sposta si accentra nell'immagine quindi rompe questa simmetria sia appunto a livello di immagini sia a livello interiore perché comunque gli gli dice tutto in faccia e quindi queste sicurezze di puro vengono messe in dubbio in quel momento ce lo smuove quindi emotivamente cosa che poi succederà anche dopo perché proprio lei che gli farà capire effettivamente come lui si è comportato durante tutta la sua vita perché dopo quando morirà cook lei gli dirà lui sperava che di vederti felice perché gli fa capire che lui ha sempre dopo la perdita della moglie è sempre stato fisso sul lavoro il suo unico scopo di vita era la parte investigativa e non non ha mai avuto eccessi non ha mai avuto niente oltre che il lavoro niente che lo pagasse emotivamente non non osava mai non andava mai oltre quello che poteva fare ma ma si è sempre basato esclusivamente sul suo lavoro e si è concentrato solo su quello senza avere senza avere mai una persona di cui innamorarsi non ha mai avuto niente oltre che il suo lavoro non voglio dilungarmi troppo comunque volevo fare due parole sulla recitazione che ho trovato comunque ottima da parte quasi di tutti in realtà lui è fantastico interpreta perfettamente il investigatore e ecco un'altra nota molto positiva è questa fotografia molto gialla molto calorosa del del nilo dell'egitto e mi è piaciuta molto ecco una cosa che invece non ho sopportato è stata la musica per quanto siano bellissime canzoni blues fantastico eccetera però a un certo punto mi ricordo che ho pensato nella mia testa quando cavolo finisce sta canzone perché era un momento finiva una canzone c'erano due parole e ne iniziava un'altra madonna non se ne poteva più secondo me mi ha pesato veramente tanto e allo stesso tempo la durata del film non la durata in sé che sono due ore venti per carità ormai si tende a fare i film sopra le due ore e questo poteva essere ridotto di molto secondo me non dico che due reventi sono tante non dico che sia stato noioso però un po nella prima parte soprattutto si sono fatte sentire cosa che viene anche dal fatto che torno ancora sulla rottura degli schemi c'è questo schema narrativo diverso dal solito di solito nella prima mezz'ora succede qualcosa che poi appunto si risolverà nel corso del film invece qui l'omicidio avviene dopo metà film e quindi c'è questa prima parte lunghissima che secondo me poteva essere ridotta quindi da portare ad anticipare effettivamente la svolta la scena clou cioè da dove inizia poi l'investigazione da anticiparla un po perché questa prima parte dove ci sono gite e quant'altro è un po lunga secondo me e anche perché poi effettivamente da quando succede quella cosa poi da quando succede l'omicidio poi diventa molto accattivante il film ti tiene incollato per vedere tutte le investigazioni che fa quindi la seconda parte bellissima quindi molto coinvolgente ti tiene incollato allo schermo la prima parte un po lunga che secondo me poteva essere ridotta appunto che c'è qualcosa di troppo ecco e soprattutto qualcosa di troppo è questa musica che dicevo che a me personalmente dopo un po di canzoni ok ma quando la prima mezz'ora sono 25 minuti di canzoni sto esagerando chiaramente però questo continuo questa continua musica come dicevo a un certo punto mi nella mia testa ho detto quando cavolo finisce perché non ne potevo più e quindi questa era anche un'altra cosa che non mi hanno mi è piaciuta molto del film sul finale arriviamo al finale così almeno chiediamo anche il video e lascio liberi coi due o tre che hanno resistito fino adesso il finale proprio fine fine quando dopo che scendono tutti dalla nave i superstiti che scendono dalla nave ognuno ha un brevissimo colloquio con poirò tranne quando arriva la cantante jazz salome se non sbaglio il nome si vede però che vuole provare a dire qualcosa ma poi si trattiene lei va via poi passano sei mesi lui torna al locale iniziale lui è senza baffi vediamo lui senza baffi quindi non lo riconoscono e si vede questa cicatrice quindi forse è appunto il punto di svolta di della vita sentimentale e non lavorativa di poirò nel senso che si lascia andare finisce la sua parte investigativa perché comunque nessuno lo riconosce nessuno riconosce senza quel baffo e soprattutto mette in mostra le sue imperfezioni se mette in mostra questa sua cicatrice e si apre ad una nuova speranza di relazione perché comunque finisce lì ma sappiamo che c'è lui chiaramente è andato in quel locale per approcciarsi a questa donna quindi da un dal lato appunto emotivo di poirò secondo me questo è come dicevo prima la parte che in cui rosalie gli apre la mente cioè gli fa capire soprattutto dopo aver perso un suo caro amico come cook decide appunto di non so se farlo contento tra virgolette cioè accettare quello che lui voleva cioè che lui uscisse che poi uscisse da questa da questa immagine di investigatore e quindi si aprisse ad una relazione si aprisse a al mondo oltre al lavoro dove appunto rosalie alla fine è stata l'artefice c'è stata quella che ha dato la spinta per far sì che ciò avvenisse e dall'altro lato l'ho visto un po una parte come se kennel brana dicesse il mio però finisce qua c'è lui quindi si è spogliato da queste veste di investigatore ha finito risolto i suoi casi i suoi due casi perché alla fine sono due assassini sull'ant express e quello sul nilo e quindi non possiamo chiamarlo un ciclo però vabbè comunque una specie di saga un franchise chiamiamolo franchise dove di due film che magari la sua parte di appunto da regista e attore finisce qui poi magari lo continueranno e magari lo continuerà anche lui però una cosa che l'ho vista come un po un modo di chiuderla in modo anche bello perché anche un modo molto emotivo di chiudere il personaggio questo è chiaramente solo una mia supposizione poi magari andranno avanti però diciamo appunto come si era chiuso il primo dava speranza ad un sequel questo qui se non me le chiude un po le speranze poi chiaramente vedremo se sarà così o meno devo dire che comunque personalmente ho apprezzato molto questa figura questo personaggio sia come interpretazione sia come sia come regia dei film l'ho apprezzato molto quindi se continuassero mi farebbe anche piacere però comunque allo stesso tempo se si chiudesse così sarebbe comunque un bel finale e quindi sarei comunque contento allo stesso tempo dunque siamo arrivati al finale finalmente so di essere stato un po contorto in questa spiegazione forse non sono stato lineare su tutto ma siccome era da un po che non facevo video continuo a dire che devo riprendere ma poi tra lavoro per fortuna e altri impegni diciamo che il tempo per girare dei video è un po diminuito però comunque non prometto di fare uscire tot video al mese o alla settimana perché non voglio fare promesse che poi magari non riesco a mantenere però comunque cercherò di ritagliarmi del tempo per riuscire appunto a fare dei video ho fatto anche su instagram una storia in cui chiedevo di farmi richieste su film serie tv o quant'altro quindi cercherò anche di rispettare queste richieste chiaramente se ho visto il film o le serie tv però niente sto allungando ancora il brodo mi ero segnato mille cose da dire del film probabilmente non saltate alla metà quindi magari le scriverò nei commenti e a questo punto chiedo anche a voi di commentare se per dire se siete d'accordo con me o in disaccordo se qualcuno pensa che la musica era fantastica e quindi io non ho capito niente liberissimi di farlo almeno possiamo comunque chiacchierare tra i commenti ognuno può dire la sua questo chiaramente è un mio punto di vista non sto dando niente per vero non sto dando niente per certezza assoluta ma un mio punto di vista del film quindi liberissimi di dire ciò che volete e così potremmo appunto posso interagire anche un po con voi e quindi niente il film se il film il video finisce qui noi ci vediamo alla prossima